adesso mettiamo un po in moto questo ciao che è da un po di giorni che non lo uso e non vorrei che dopo non partisse più prima che faccia sera che ormai quasi buio adesso le giornate sono così brevi del resto siamo a fine estate e bisognerà attendere un po prima che si allunghino nuovamente le giornate adesso provo e provo apro la miscela metto l'aria proviamo così grazie 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 grazie